Cristo san esti ec necrom, fanaton, fanaton, patissas, che lì... Vi incoraggio ad accogliere sempre più in voi e tra di voi l'amore del Signore, sorgente e motivo della nostra vera gioia, a partecipare ai sacramenti, a manifestare prossimità ad ogni famiglia, a prestare attenzione ai più poveri e bisognosi, ad accompagnare le giovani generazioni con la grande sfida educativa che tutti ci convolge. Sono queste le dimensioni in cui custodire le proprie tradizioni, come pure la pertenenza a Cristo e alla Sua Chiesa. Siete chiamati a vivere come cristiani, testimoniando che l'amore è più bello dell'odio, che l'amicizia è più bella dell'inimicizia, che la fratellanza fra tutti noi è più bella dei conflitti. Grazie a tutti.